ho conosciuto un pazzo che credeva che la fine del mondo ci fosse già stata dipingeva e gli volevo bene andavo a trovarlo al manicomio lo prendevo per la mano e lo tiravo davanti alla finestra ma guarda là là tutto quel grano che spunta e lì guarda le vele dei pescherecci tutta questa bellezza lui liberava la mano e tornava nel suo angolo spaventato aveva visto solo ceneri lui solo era sopravvissuto dimenticato sembra che questi casi non siano così rari grazie 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 a tutti.